Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio assolutamente aggiornarvi con tante notizie importanti in questo momento la maggior parte delle criptovalute sta correggendo abbiamo visto Bitcoin perdere in circa un 4% ieri scendendo sotto 29.000 che sono stati poi subito recuperati voglio parlarvi di quello che è successo nello specifico con Binance per quanto riguarda il governo degli Stati Uniti quindi adesso iniziamo subito perché questo è un video importante voglio dirvi anche la mia cosa ne penso al riguardo e cosa farò per quanto riguarda le criptovalute ragazzi vediamo Scriptobubbles che tante cripto sono diciamo in correzione perdono in circa dall'1.5 al 4% e vediamo solo una ripresa di X di anche di Pulse, di Pulse Chain vediamo anche CRV di Curve con un più 3% però in generale abbiamo visto una discesa abbastanza importante per la maggior parte delle criptovalute questo qui è il grafico giornaliero ieri Bitcoin se consideriamo anche le shadows ha perso ogni circa un 4% quasi nulla di che perché abbiamo visto anche di peggio però nello specifico voglio parlarvi di cosa è successo ma cosa è successo? perché abbiamo visto questo piccolo crollo di Bitcoin? cosa potrebbe succedere in futuro? come comportarsi? in pratica ragazzi CZ, CEO di Binance ha pubblicato il suo famosissimo 4 ieri alle 5 e un quarto del pomeriggio e sta a indicare che della food sta per arrivare infatti tutti aspettavano questo momento e soprattutto dopo un'oretta all'incirca abbiamo visto vari articoli in cui andavano a spiegare che è successo questo perché il governo degli Stati Uniti sta accusando di frode Binance c'è un articolo che voglio analizzare con voi per capire cosa è successo nello specifico in pratica ragazzi il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta pensando di accusare di frode Binance come ho detto prima però come viene scritto anche qui i pubblici ministeri temono che le accuse possano causare una bank run sulla piattaforma temono un risultato simile a quanto accaduto con FTX lo scorso anno nello specifico incitando al panico che farebbe perdere denaro a molti utenti quindi lo scopo degli Stati Uniti è difendere anche della SEC gli investitori quindi secondo me non ha senso ovviamente dare accuse del genere perché sicuramente tantissime persone preleveranno i fondi da Binance e già adesso sta accadendo perché ovviamente il rischio potrebbe esserci quindi si sta pensando invece di fare accuse così pesanti di multare l'exchange e diciamo stipulare alcuni patti per quanto riguarda la vendita non legale di securities non securities cosa del genere secondo gli Stati Uniti Binance non era un broker regolamentato secondo le regole degli Stati Uniti quindi si è ben capito che da inizio anno è una guerra che sarà fatta contro le criptovalute e questa cosa continuerà quindi bisogna essere pronti e potremo assistere ovviamente ad accuse così pesanti verso Binance per ora ripeto le criptovalute hanno perso tantissimo Bitcoin è sempre su 29.000 e anche le altre cripto come CRO eccetera sono sempre nello stesso range quindi c'è stato un po' di crollo perché le persone alla notizia i traders hanno aperto posizioni short come al solito e quindi per questo per speculare il prezzo è sceso però non è avvenuta diciamo una sell impression non abbiamo visto una sell impression così forte ma se questa notizia viene confermata se dovesse esserci un'accusa di frode potrebbe essere molto negativo e il prezzo di Bitcoin e di BNB potrebbe continuare assolutamente a scendere perché ho ricevuto tanti messaggi su Instagram ragazzi e quindi per questo voglio chiarire questa cosa e voglio anche dirvi cosa ne penso io penso che come al solito conviene utilizzare i checks solo se fate trading oppure solo se volete acquistare criptovalute potreste anche diversificare gli exchange c'è Binance, c'è Bitget, c'è Bybit, c'è Bingex, c'è Femex avete tutti i link qui in basso in descrizione con tantissimi bonus super interessanti con lo sconto sulle fees eccetera quindi non c'è neanche bisogno secondo me di focalizzarsi solo su un exchange e se devo essere sincero ragazzi io tengo i fondi solo sui exchange che utilizzo per fare trading quindi non utilizzo l'exchange per depositare le mie criptovalute ma le posseggo su wallet esterni che sono facilmente acquistabili su Amazon e costano davvero poco e siete sicuri quindi in questo caso ho dei fondi su Binance e decido per adesso di prelevarli non perché non mi fidi di Binance però non si può mai sapere visto che con FTX abbiamo visto all'improvviso un fallimento totale è successo in questo modo dove c'è pressione le persone iniziano ovviamente a prelevare i fondi finiscono quindi potrebbe succedere non è il caso di Binance penso sia molto difficile in questo caso perché Binance si è sempre comportato bene ha tantissimi fondi disponibili l'exchange è il numero uno al mondo quindi spero che ciò non accada però purtroppo potrebbe accadere per questo vi dico di stare super super attenti detto questo ragazzi per quanto riguarda l'altcoin season index siamo sempre al numero 29 siamo sempre diretti a quanto pare verso un altcoin season per quanto riguarda il bitcoin fear and greed index siamo al numero 52 in zona neutrale quindi niente è cambiato nello specifico c'è questa notizia che potrebbe però portare volatilità potrebbe portare pressione di vendita se venisse confermate in futuro e come al solito tramite Telegram oppure tramite Instagram vi aggiorno non sono stato molto presente ultimamente ragazzi perché ho avuto la febbre e adesso mi sono ripreso un poco però cerco di essere più presente nei prossimi giorni quindi iscrivetevi anche a miei social detto questo ragazzi c'è un annuncio molto importante per quanto riguarda Femex c'è una promo interessante perché c'è possibilità di ricevere 10 ethereum se si partecipa a questo giveaway per partecipare ragazzi bisogna ottenere il Femex su all pass che vi ho detto che serve per ricevere gli XPT che sarebbero i token PT della piattaforma come al solito qui in basso vi lascio tutte le info e per sbloccare questo Femex all pass bisogna solo avere 10.000 dollari di volumi e quindi non sono tantissimi negli ultimi 30 giorni attenzione quindi non un tempo molto limitato e potreste ricevere poi questi 10 ethereum che non sono per niente male datevi un'occhiata ragazzi vi lascio come al solito il link qui in basso in descrizione di questo video e date un'occhiata anche a Bitget perché avete fino all'8.000 dollari bonus con il mio link affiliato basta depositare e si ricevono poi queste ricompense è davvero semplicissimo tutti i link sono qui in basso in descrizione detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo presto con la prossima avventura se qualcosa dovesse cambiare domani cerco di pubblicare un video se no ci vediamo direttamente sabato oppure lunedì ciao a tutti ragazzi e buona giornata